Ok, mi sentite. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Bonucci, rappresentante per l'Italia in Beauty Streams. Innanzitutto un ringraziamento a Experience Lab per l'opportunità di essere qui con voi oggi per raccontarvi appunto quello che è il beauty nell'era post-covid, quindi ripartenze e nuove tendenze. Una brevissima introduzione per chi di voi non dovesse conoscere Beauty Streams. Noi siamo un'azienda che nasce nel 2010 con l'obiettivo di portare all'interno del mercato cosmetico una piattaforma unica che avesse al suo interno tutta una serie di informazioni utili per i professionisti cosmetici di diverse categorie all'interno delle aziende per supportarli nei progetti e nelle ricerche come sviluppare nuovi prodotti ma anche sviluppare nuove campagne di marketing e strategie di comunicazione. Ci occupiamo al 100% del settore cosmetico, quindi oltre ad andare a scoprire come evolverà il settore da un punto di vista generale entriamo nel dettaglio di tutte le categorie di prodotto quindi avremo delle informazioni per capire come evolverà il settore della skin care per esempio così come quello delle fragranze e per tutti gli altri. Abbiamo una metodologia ben precisa con cui ci applichiamo per l'analisi delle tendenze che è quella del trend funnel, come vedete dalla slide è una sorta di mezzo imbuto in cui cominciamo sempre da una visione più macro a capire quelli che sono i movimenti che impatteranno tutte le industrie e i consumatori. Andiamo poi a guardare le tendenze puramente del settore cosmetico passiamo poi alla stagionalità e infine a osservare quello che avviene oggi sul mercato. Per la presentazione di oggi faremo questo viaggio tra le macro tendenze tendenze cosmetiche e ovviamente arriveremo allo scopo della nostra chiacchierata che sarà proprio creare uno storytelling. Benissimo. Ora, cosa sarà del settore cosmetico post pandemia? Questa è stata una delle domande più frequenti che ci siamo fatti tutti immagino seduti qui con noi oggi, appunto negli ultimi due anni. Quindi l'industria cosmetica si è evoluta tantissimo abbiamo assistito a dei cambiamenti radicali anche da parte delle diverse categorie di prodotto che si sono dovute riadattare e rimodellare anche, reinventare per sopravvivere a questa pandemia. Ora, l'aspetto più importante è diventato quello di creare per le aziende una relazione molto più personale con il proprio consumatore. E appunto mai più che adesso capire e conoscere come comunicare i propri valori, la propria missione, del proprio brand è diventato fondamentale per creare appunto una comunicazione che andasse veramente a risuonare con il target e il nostro consumatore specifico. Ora, creare uno storytelling che sia vincente, che colpisca veramente il consumatore è un processo niente che facile, quindi è molto complesso ed è importante per le aziende capire come fondere insieme le diverse tendenze, in particolare le macro tendenze, le tendenze cosmetiche e i consumatori per riuscire a creare veramente un'idea dietro e trasmettere i propri valori e la propria missione. Ora, come regola base, quella di capire e analizzare quello che sta succedendo intorno a noi, quindi come evolverà il mondo stesso e l'impatto che avrà sulle diverse industrie è fondamentale. È il primo step per iniziare a capire i nostri valori e il nostro messaggio. Le emergenze climatiche, le tecnologie, l'esigenza anche di riconnetterci tra di noi andranno a definire tutte quelle che saranno le tendenze che avranno un impatto maggiore a livello globale. Benissimo. Partendo da quello che è il concetto legato alla sostenibilità attraverso una tendenza che noi abbiamo chiamato SOS Earth è quello di andare appunto a capire la nuova urgenza globale che sta toccando tutti noi. investire ora in azioni risparative, in azioni sostenibili per evitare di pagarne le conseguenze più avanti. Quindi investire adesso per rallentare il danno del cambiamento climatico anche perché entro il 2050 il numero di rifugiati climatici sarà oltre i 216 milioni. Quindi è importante iniziare a lavorare proprio fin da subito per tutte le tipologie di industrie su delle azioni appunto riparative. Anche azioni rigenerative è lo scopo principale di questa nostra tendenza che appunto permetterà di ridare all'ambiente più di quello che ci siamo presi in precedenza. Un esempio è Microsoft che entro il 2030 sarà carbon negative e addirittura entro il 2050 prevede di azzerare tutto l'inquinamento, la CO2 che ha prodotto sin dall'anno di fondazione. Ancora la biotecnologia rimane uno dei mezzi una soluzione che potrà risolvere diverse problematiche a partire dalla sostenibilità così come l'approvvigionamento. Quindi se pensate alla creazione di ingredienti, di materie prime in laboratorio e non più di trasporto e di appunto impatto ambientale che le coltivazioni possono avere sull'ambiente. La sostenibilità non è solamente una questione di etica ma anche include una serie di tecnologie innovative che appunto andranno a creare nuova interazione e apriranno a nuovi mercati quindi un'apertura anche nei confronti di altri consumatori. Questo utilizzando algoritmi per esempio e intelligenza artificiale se pensate a L'Oreal in tempi di pandemia ha realizzato questa tecnologia chiamata L'Oreal Faces che appunto si è aperto a un nuovo mercato quello del metaverso chiamiamolo così in cui appunto si potevano acquistare dei trucchi completi da utilizzare nelle famose chiamate Zoom che ci hanno accompagnato e ci accompagnano ancora. Ancora tutto questo ha un obiettivo che è quello di creare dei prodotti che siano altamente personalizzati e customizzati. Questo perché un prodotto solo che sia creato su misura per le nostre esigenze ovviamente risparmia da un punto di vista sostenibile quindi ci sarà meno acquisto a tanti prodotti quindi uno sostituisce più prodotti ma anche aumenterà l'inclusività quindi si potrà andare veramente a scegliere un prodotto che si è proprio creato per noi. Questa è una tendenza che noi in Beauty Streams abbiamo chiamato Next Gen Human che appunto si focalizza su come la tecnologia e gli avanzamenti scientifici includendo la genetica la biologia per esempio aiuterà a rafforzare l'organismo umano quindi attraverso la biologia sintetica la neuroingegneria il biohacking per esempio e si potrà andare veramente a creare dei prodotti che siano personalizzati sulle nostre esigenze sia per la mente ma anche per il corpo. Strettamente collegato è il tema della cosmetica olistica la cosmetica chiamata che nasce da dentro ecco mettiamola così e appunto lo scopo principale di una tendenza come Holistic Self è proprio quella di andare a supportare i nostri consumatori nel ritrovare l'equilibrio personale e interiore che appunto a causa della pandemia soprattutto è andato meno si è perso. Qui sappiamo benissimo come il Covid ha causato livelli di stress e ansia elevatissimi e l'importanza su cui si focalizza proprio questa tendenza è andare a supportare i nostri consumatori aiutandoli a trovare dei nuovi gesti dei nuovi rituali se pensate anche all'impatto che hanno avuto le fragranze per la casa durante i tempi di pandemia ci hanno aiutato un po' a separare i locali ma anche a sentirci meglio con noi stessi e proprio questo è il tema della cosmetica olistica quindi attraverso l'utilizzo di nutraceutici quindi anche cibi speciali così come integratori per le difese umane andare a ritrovare il nostro il nostro equilibrio un'altra grande attenzione ce l'avranno tutte quelle tradizioni ingredienti orientali così come la medicina tradizionale cinese la yurveda che già iniziano a essere sempre più conosciuti e mainstream in questo senso benissimo tutte queste innovazioni che abbiamo visto fino ad adesso avranno sicuramente un impatto su quello che è il settore cosmetico ovviamente la pandemia ha giocato un ruolo molto critico nel determinare delle nuove direzioni etiche e sostenibili all'interno dell'industria partiamo proprio da ethically correct questa è una tendenza che non si basa più solamente su claim come vegani prodotti cruelty free prodotti clean perché questo ormai è diventato basic ok sono claim comuni noti a tutti e che tutti ricercano l'aspetto più importante che a causa della pandemia si è andato sempre più evolvendo è proprio quello del chi quindi l'attenzione si è spostata dal come al chi chi produce i prodotti che noi utilizziamo come vengono trattati gli impiegati all'interno delle aziende e soprattutto in che modo le aziende hanno veramente dato un contributo alle comunità locali nel momento del bisogno queste sono tutte domande che i consumatori sempre più iniziano a porsi per valutare a quali aziende o meno affidarsi ovviamente il bisogno per aiutare la propria socialità si è manifestata anche attraverso quelle che noi consideriamo delle collaborazioni delle fusioni a livello globale di grandi corporazioni quindi in modo da poter veramente andare a rassicurare il proprio consumatore così come anche lo sviluppo più locale ovviamente l'impossibilità di muoversi di viaggiare sia per noi persone ma anche il trasporto di prodotti ha portato a un maggiore interesse un maggiore riscoperta dei luoghi in cui abbiamo sempre vissuto quindi quelle che sono le culture le tradizioni ma anche determinati ingredienti locali che appunto che prima non si guardavano neanche più tutto questo porta all'apertura di nuove narrazioni quindi nuovi storytelling così come nuove formulazioni se pensate anche al fatto che non potendo più trasportare gli ingredienti lo stesso prodotto in base all'area geografica potrà avere ingredienti differenti e questo sicuramente potrebbe essere considerato anche un plus rispetto a quello che si è sempre fatto prima e quindi anche questa riscoperta tutti degli ingredienti appunto ingredienti locali ok abbiamo visto quindi come sia tendenze di tutte le industrie così come quelle più cosmetiche si sviluppano nei confronti di una maggiore personalizzazione allo stesso modo questo impatta anche la società e il consumatore come stiamo cambiando a oggi il consumatore vuole esige essere al centro dell'attenzione al centro delle scelte che le aziende hanno nei loro confronti quindi sia come prodotti ma anche come comunicazione e questo ci ha portato a caratterizzare a targettizzare i consumatori attraverso un approccio più individuale ok quindi non consideriamo più i consumatori secondo l'area geografica o il gruppo di età a cui appartengono ma andiamo proprio a considerarli secondo degli archetipi che non sono altro che tratti caratteristici comportamenti comuni di consumatori in tutto il mondo a seconda proprio anche della fascia di età quindi non c'è più questo stacco ora ovviamente l'essere in sincronia con la terra con se stessi con la natura non è un concetto nuovo ma è un concetto che si è andato a sviluppare ancora di più grazie o a causa della pandemia stessa la ricerca appunto per questa armonia questa felicità personale interiore è una priorità per tantissimi consumatori e noi li abbiamo definiti happy holistics consumatori che appunto ricercano benessere e nuovi livelli di piacere anche attraverso delle nuove texture più sensoriali oltre a continuare a cercare prodotti che rientrino in questo green beauty quindi dare tutta questa sorta questa sensorialità attraverso dei prodotti considerati green l'impatto dei social media durante la pandemia ha dato terreno fertile per l'evoluzione di consumatori che noi chiamiamo excellencers questi sono consumatori che arrivano già dagli anni 80 quindi tutti coloro che cercano in continuazione la versione migliore di se stessi utilizzando i social media anche come mezzo di convinzione negli altri persone di influenzare altri consumatori questo è un consumatore molto complicato nel senso che sono i primi i pionieri quindi andranno alla ricerca di novità saranno i primi che vorranno provare tutti i nuovi prodotti così come anche procedure più estreme come la chirurgia per esempio sempre cercando di migliorarsi questo li porta da un punto di vista cosmetico alla ricerca di formule personalizzate prodotti più lussuosi ingredienti innovativi che si basino anche sull'analisi del proprio DNA quindi estremamente personalizzati gli ethicalists si ricollegano alla tendenza che abbiamo visto in precedenza sono i nuovi devoti dell'etica tutti coloro che sono spinti da un forte attivismo ovviamente vanno oltre a quello che è l'animal testing zero waste go local ma addirittura anche loro sono proprio coloro che cercano sostenibilità eticità all'interno delle aziende quindi sia di produzione ma anche di come vengono trattati i propri dipendenti e soprattutto come le aziende hanno contribuito e contribuiscono tuttora su questioni sociali e politiche benissimo come appunto adesso stiamo entrando in una nuova era di acclimatizzazione quello che sarà il tema centrale per l'autunno inverno 2022 2023 sarà reinventare l'indulgenza quindi in questa nuova età i consumatori andranno alla ricerca di rapporti brand consumatore sempre più significativi e che possano avere un'interazione ovviamente con quelli che sono i prodotti stessi quindi creati per dare un estremo piacere un estremo benessere lo shopping l'acquisto diventa meno frenetico si cercano prodotti che durino di più nel tempo che possano come dire andare a racchiudere più esigenze all'interno di un solo prodotto mettendo insieme le diverse tendenze su cui ci siamo focalizzati oggi una modo per poter comunicare tutto questo è attraverso Nurture che sarà appunto uno storytelling Nurture è una una storia che guarda all'indulgenza e al benessere mentale e fisico durante il tempo del lockdown il contatto è venuto meno e il contatto è fondamentale per noi umani per stare bene con noi stessi ma anche con gli altri quindi ci sarà questo ritorno al contatto e al voler appunto toccare la pelle la propria pelle attraverso delle emozioni e delle sensazioni tra le parole chiave che andranno a definire questo storytelling abbiamo safe heaven quindi andare proprio a proteggere il mondo in cui ci troviamo per garantire alle generazioni future un mondo che sia incontaminato che sia puro così come hypersensorialism quindi l'importanza appunto del proteggere la pelle del toccarla e di offrire diverse sensazioni ed esperienze multisensoriali al proprio consumatore e ancora sync quindi questa estrema connessione tra mente corpo che è fondamentale per la riabilitazione di noi stessi e per la ripresa a passare post appunto pandemia ora la domanda è ma in termini di prodotti come si può andare a dare un senso anche a questa storia a questo storytelling la parte più importante è una storia che prende molta ispirazione dal mondo dello skin care quindi andare a creare una sorta di stratificazione protettiva diverse texture molto avvolgenti con dei benefici nutrienti e come texture balsami e unguenti che vanno proprio a dare questa sensazione di tatto e di appunto e di avvolgimento abbiamo pensato anche a come possono essere i prodotti in base all'area del viso per il viso appunto abbiamo pensato a un fondotinta un blush in gel che desse proprio questa sensazione molto naturale sul viso come post allenamento quindi un rossore estremamente naturale e modulabile ancora per gli occhi abbiamo pensato invece a un ombretto in balsamo quindi attraverso questa applicazione con le dita di trasmettere questo questo unguento da un finish perlato da dare quasi una sensazione di occhio sveglio appena svegliato da un pisolino per le labbra abbiamo pensato a un unguento invece nutriente ricco di di vitamine per poter andare a nutrire a nutrire le labbra e anche leggermente pigmentato per donare un colore più un nuovo colore alle labbra ovviamente tutte queste texture le abbiamo pensate ad applicare con le dita quindi per dare questa sensazione ancora di più di contatto con la propria pelle come conclusione appunto l'importanza l'importanza dello storytelling è proprio quello di andare a creare desiderabilità nella mente del consumatore nonché un successo anche da un punto di vista commerciale è un modo per creare interesse nella mente del consumatore nei confronti di colori di texture di ingredienti e quindi appunto nei paragrafi precedenti abbiamo visto come diverse diverse tendenze come la sostenibilità e il benessere possano concretizzarsi effettivamente in una storytelling come Nurture in questo caso io appunto vi ringrazio per l'attenzione se avete qualsiasi domanda sono qui grazie ancora grazie